L'alimento della vita, la potenza creatrice del pensiero, Amadeus Volben, Mediterranea, a cura di VB. Sperare è sempre guardare il lato positivo delle cose. La speranza è l'alimento della vita. La speranza alimentata diviene certezza, cioè fede. E questo è lo stato ideale dell'esistenza, quando ciò che è nato cresce e diviene realtà.